Under 13, De Felice Emanuel Quarto classificato, Pietro Candelli Pietro, lasciare qualcuno qua Guarda me adesso, guarda me, guarda me, guarda me, guarda me, guarda me Grazie, ancora, 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 grazie Facciamo un'altra Aspetta Pietro, aspetta Pietro Un'altra ancora, dai Facciamo un'altra, dai resisti Perché mi stai entrando Su Instagram No, su Facebook, in diretta Aspetta, va Aspetta, orsetti Rebecca Secondo un'altra ragazza Piano Alessia Sì, 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 sì Sentiamo di dove è Ale, Ale, fagli sentiti dove sei Di dove sei Il circolo È il circolo di Monti di Broci Primo classificato Marcino Lorenzo Antonio Eeeeeeeh Capione italiano Under 13 Eeeeeh Il circolo, il circolo Abbiamo sbancato Ok Ci siamo, ci siamo Oh, il merito è di questo, vedi Di questo Di chi è, di chi è Piano Alessia Alessia, molto forte Campionessa italiana Un applauso grosso Abbiamo sbancato Applauso Capione